Bentornati! Allora, quanti tipi di soprano ci sono? Oggi cerchiamo di rispondere a questo dubbio esistenziale. Innanzitutto partiamo dalla vessata questio. È corretto il soprano o la soprano? A Milano si dice, ascolta un stupid, cioè dai retta un fesso, dite come vi pare. Io ho una mia teoria, cioè quando come oggi parlo del registro vocale di soprano dirò il soprano e quando invece parlo di qualcosa più afferente alla femminilità del soprano, ad esempio in una trama dico il tenore si sposa con la soprano, uso appunto l'articolo femminile, ma insomma, ma dite un po' come volete, non andrete di inferno per questo. E se qualcuno dovesse rimproverarvi, mandatelo a me che ci parlo io. Premessa, la vocalità risponde a delle regole fisiche, quindi scientifiche, di morfologia del corpo. Ma il canto non è una scienza esatta, anzi spesso diventa materia di fede. Non solo, quando poi si passa dalla teoria a delle cantanti in carne e ossa, abbandoniamo perfino la materia di fede ed entriamo nel tifo calcistico. Ma come? La tal cantante non è un lirico, è un lirico leggero. La tal altro è drammatico, ma ha anche le agilità. Quell'altro ancora è leggero, ma non ha la coloratura. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Allora, consideriamo innanzitutto una regola generale che vale per tutti i cantanti, anche quelli maschili. In linea di massima la voce è più leggera, più squillante e più agile in gioventù e col passare degli anni diventa più spessa e più robusta. Questa è una regola generica, non è una legge scientifica. Sia chiaro, ci sono mille e mille eccezioni a questa regola. Stante questa premessa, la domanda che ci potremmo fare è ma soprano o mezzo soprano, o limitandoci all'ambito del soprano, vari tipi di soprano, ci si nasce o studiando si può diventare un certo tipo di vocalità? Fondamentalmente si nasce perché, come ho detto all'inizio, la propria vocalità e il proprio registro sono basati e dovuti alla propria morfologia, per cui si è quello che si ha in gola fondamentalmente dal punto di vista vocale. Registro, quindi, e vocalità dipendono da diverse questioni fisiche, ma le principali sono tre. La lunghezza delle corde vocali, in questo senso più lunga è la corda vocale, più avrà facilità nel registro basso e più corta è la corda vocale e più avrà facilità nel registro acuto. Il secondo parametro è lo spessore, diciamo così, della corda vocale, per cui una corda vocale più sottile avrà un timbro più chiaro e una corda vocale più spessa avrà un timbro più scuro. E il terzo parametro è la conformazione della laringe. Poi, come ho detto, ce ne sono anche altri, ma diciamo che questi qua sono i tre più importanti. Per semplificazione parleremo solo di questi. Quindi, da queste tre caratteristiche, ma soprattutto ancora di più dalla combinazione di queste tre caratteristiche, viene fuori che registro abbiamo e che tipo di vocalità abbiamo. Ovviamente la cosa vale sia per gli uomini che per le donne. Allora, la prima valutazione di che voce abbiamo la fa l'insegnante di canto, che facendoci fare dei semplici esercizi, o facendoci accennare o cantare qualcosa, o una scala, insomma, o facendoci fare una serie di esperimenti, stabilisce in base alla sua esperienza, al suo orecchio, che tipo di vocalità abbiamo. Dopodiché, se ha un minimo di etica professionale e di serietà, l'insegnante di canto dovrebbe mandarti da un otorino laringoiatra, che fa un'analisi dell'apparato fonatorio, in particolare appunto corde e laringe, e in base alle risultanze di questo esame ti dice tu sei un soprano, sei un mezzo, e in certi casi può anche entrare più nello specifico di che tipo di soprano tu possa essere. Attenzione a un passaggio molto importante. Non confondiamo l'estensione di una voce, quindi quel range di notte che va dalla nota più bassa che il cantante o la cantante riesce a fare a quella più acuta, e non confondiamo questa cosa che è l'estensione con il registro di un ruolo. Sono due cose completamente diverse. Facciamo un esempio pratico. Mettiamo che un soprano leggero per esempio abbia un'estensione che va dal Do al Fa sovracuto. Ovviamente tra questo Do e questo Fa ci sono tutta una serie di note all'interno, all'interno di questo range, e non tutte possono essere emesse dal soprano o da qualunque altra voce con la stessa forza, lo stesso volume e la stessa facilità. Cioè non è come su pianoforte su cui un tasto fondamentalmente vale l'altro, e quindi il volume, stante la stessa forza, il volume è più o meno lo stesso. Nella voce è completamente diverso. Altra cosa invece è la tessitura di un ruolo specifico, di un ruolo scritto da un compositore, che non solo può avere un'estensione diversa da quella che è l'estensione della cantante, possibilmente ci si augura che sia minore, ma soprattutto ruota attorno a una serie di note, è una serie di registri all'interno del ruolo, che rendono quel ruolo più specifico, o per dire in altra maniera più comodo, per un determinato tipo di soprano, e meno comodo per un altro tipo di soprano. Per cui, fatta questa lunga ma doverosa premessa, partiamo dalle basi, e cerchiamo di capire quanti tipi di soprani ci sono. Allora, grosso modo le categorie di soprani sono tre. Il soprano leggero, il soprano lirico, il soprano drammatico. Una cosa molto importante, il soprano lirico non è che si chiama lirico perché canta musica lirica, ovviamente, anche gli altri due cantano musica lirica. Si chiama lirico perché è un aggettivo riferito al lirismo, quindi alla cantabilità del ruolo. Infatti, fra i tre, è quello che ha una cantabilità migliore. Ricordiamoci inoltre che quando un compositore scrive un ruolo, certamente nella sua testa sa che tipo di vocalità servirà per quel tipo di ruolo, quindi se è un soprano leggero, lirico, drammatico, o altre sottocategorie che vedremo più avanti nel video, ma fondamentalmente poi scrive solo soprano, tenore, baritono, eccetera, eccetera. Quindi poi sarà la pratica e saranno i vari cantanti che si sentiranno o non si sentiranno in gola quel tipo di personaggio scritto dal compositore. Allora, primo soprano. Soprano leggero. Soprano leggero è il registro più acuto dei tre tipi di soprano ed è quello che più degli altri due dovrebbe avere facilità nelle note acute e maggiore agilità. Perché, come vi ho detto all'inizio, è quello che ha le corde vocali più corte e fondamentalmente più sottili. Il timbro, quindi, è un timbro abbastanza chiaro e soprattutto nella prima ottava, cioè nel registro più grave del soprano leggero, non è particolarmente sonoro. Cioè, non ha tanto volume, detto altrimenti. Non per niente, ecco perché vi spiegavo prima la differenza tra la tessitura e l'estensione, non per niente, nella prima ottava, quindi nella parte bassa del soprano leggero, non si indugia più di tanto il compositore per soprano leggero non girerà troppo intorno a quelle notte del registro grave. Tipici esempi di soprano leggero, Olimpia, Oscar di un ballo in maschera, e la regina della notte su cui però facciamo un focus un po' più avanti. Secondo tipo di soprano, il soprano lirico che ha un timbro più caldo e che ha sì gli acuti, ma esprime il suo meglio nella cantabilità. Pensate ai ruoli come la contessa nelle nozze di Figaro, Liu, nella Turandot, Manoles Coe, Micaela, Mimì, Nedda, Violetta, Ciocio San. Come avete visto, praticamente la gran parte dei soprano delle opere che amate? Sono soprani lirici. Questi ruoli sono nati e pensati per un soprano lirico. Poi a volte è successo che altri tipi di soprano li abbiano interpretati. Ed ecco il perché delle sottocategorie che vedremo più avanti nel video. Terzo tipo di soprano, soprano drammatico. Ha un timbro scuro, pieno, con tanta potenza e tanto volume proprio in quella prima ottava, quindi nel registro basso, che in realtà difetta al soprano rogero che però ha tante note acute da sparare e da regalare al mondo. Esempi di soprano drammatico, Abigail. Gioquonda. Gioconda. Santuzza. Tosca. Tosca. Durandotto. Ora, non dovete pensare al tre tipi di soprano come dire uno sovrapposto all'altro. Cioè, non è che dove finisce il soprano drammatico inizia il soprano lirico e dove finisce il soprano lirico comincia il soprano leggero. Non è assolutamente così. Anzi, ci sono varie zone di comunanza fra i vari tipi di soprano. Ed è proprio per questa comunanza, è proprio per questo, come dire, struscio fra i vari tipi di soprano che molte volte c'è grande difficoltà a stabilire che vocalità ha un determinato tipo di soprano. Sia è lirico o è lirico leggero. È leggero ma ha anche la coloratura, è drammatico ma ha le agilità o è un lirico spinto. Ci sono tante sette categorie e molte volte succede che l'insegnante di canto non si trovi d'accordo con la valutazione fisica che ha fatto l'ottorino della ringoiatra della voce del proprio allievo o della propria allieva evidentemente. E quindi succede spesso e volentieri che l'insegnante faccia studiare magari un repartorio sbagliato e questo se è discutibile e più affrontabile per quanto riguarda i vari tipi di soprano considerate che molte volte ci sono dei tenori che studiano un repertorio da baritono o spesso al contrario dei baritoni che non si rendono conto di essere baritoni e studiano per anni e anni il repertorio da tenore e quindi la domanda che potremmo farci è ma si può studiare un repertorio sbagliato? Detto in altra maniera io se sono un soprano lirico posso studiare un qualcosa da repertorio leggero o da repertorio drammatico? In linea di massima sì in linea teorica sì è sempre una questione di equilibrio e di misura spesso capita soprattutto nei concerti diarie quindi non nei ruoli interi di un'opera lirica ma nei concerti diarie che una soprano dico soprano ma ovviamente vale anche per le altre categorie una soprano canti magari dei ruoli che non sono esattamente quelli della propria vocalità appunto mettiamo che un soprano lirico magari può cantare un qualcosa del repertorio del soprano leggero lo può fare se ci si limita a qualche aria e quindi se si dà poi la possibilità alla voce alle proprie alle proprie corde vocali di come di ritornare nella loro comfort zone e quindi di non affaticarsi troppo viceversa se invece un soprano mettiamo punto lirico si incaponisse nel fare un intero ruolo magari da soprano drammatico e quindi lo portasse in scena e facesse molte recite interpretando un soprano drammatico quando invece dovrebbe cantare un ruolo da soprano lirico e alla lunga questa cosa può portare a un grande affaticamento può portare a dei problemi fisici anche dei noduli sulle corde vocali e poi nei casi più gravi può portare anche a problemi fisici molto gravi che possono addirittura obbligare la cantante a sospendere il canto quindi a riposo assoluto e in certi casi il perfuno ha dei danni irreparabili alla voce ecco vediamo quelle che sono invece le sottocategorie spesso nel soprano leggero lo si definisce leggero o di coloratura in realtà tecnicamente le due cose sarebbero distinte nel senso il soprano di coloratura è sicuramente un soprano leggero questo non si discute però non è detto che tutti i soprani leggeri abbiano la capacità della coloratura che cos'è la coloratura è fondamentalmente la capacità di ornare con abbellimenti una determinata melodia a volte questi ornamenti sono scritti dal compositore in altri casi sono pensati dalla cantante sulla propria voce o magari dall'insegnante della cantante che li può scrivere apposta ad hoc per la voce della propria allieva quindi come detto non sempre il soprano leggero corrisponde con il soprano di coloratura il soprano leggero in particolare è particolarmente utilizzato nel repertorio belcantistico tipico esempio invece il soprano di coloratura la regina della notte diciamo che poi col tempo i compositori hanno un po' abbandonato l'utilizzo del soprano di coloratura per questioni di maggiore aderenza scenica e di maggior corrispondenza psicologica tra la vocalità e il personaggio che il soprano deve interpretare poi abbiamo ad esempio il soprano lirico drammatico che ha sì la cantabilità tipica del soprano lirico ma anche molta forza e molto volume nella prima ottava poi abbiamo il soprano drammatico di agilità che era stata una definizione che era stata praticamente inventata per Maria Callas che aveva appunto la capacità di cantare i ruoli drammatici tipici come Turandot come Tosca però al contempo aveva anche un'incredibile facilità negli acuti e un'incredibile capacità virtuosistica nel registro acuto poi c'è il soprano wagneriano che è un soprano particolarmente scuro poco interessato agli acuti e invece molto interessato al timbro stentorio e molto sonoro bene spero di avervi chiarito qualche dubbio esistenziale o almeno spero di essere riuscito di panare un pochettino la nebbia che spesso c'è in un campo così delicato ma spesso anche così soggettivo come appunto quello del canto se il video vi è piaciuto scrivetelo nei commenti lasciate un like iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto attivando la campanella così potrete essere aggiornati immediatamente su tutti i nuovi video che farò e se volete dare un contributo ancora più concreto al canale c'è la possibilità di abbonarvi schiacciando il tasto abbonati che trovate qua sotto ci vediamo alla prossima grazie a tutti